Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video della serie di tutorial su Java Swing. Java Swing è una libreria di Java che contiene il necessario per creare applicazioni con un'interfaccia grafica, una GUI. Java Swing è un'evoluzione di AVT, infatti Java Swing rende disponibili più componenti più leggeri e indipendenti dalla piattaforma il cui aspetto può essere personalizzato. In Swing ci sono due elementi principali, i components e i containers, componenti e contenitori. I components sono oggetti grafici che offrono interazioni con l'utente come i pulsanti o le caselle di test in questo esempio, mentre i containers contengono i componenti e hanno il compito di posizionarli e dimensionarli in base al layout manager che è stato a loro assegnato. Per esempio in questa finestra un containers è la finestra vera e propria con il titolo e i pulsanti, mentre i components sono all'interno della finestra. Questa è la gerarchia dei componenti di Java Swing. In Swing ci sono molti componenti e per differenziali da AVT sono preceduti dalla lettera J come vedete qui, Jlabel, Jlist, Jbutton ecc. In Swing tutti i componenti derivano dalla classe astrata component e sono organizzati in una gerarchia. Nella parte più alta di questa gerarchia troviamo i contenitori principali che hanno il compito di contenere componenti di livello inferiore. In Swing ce ne sono quattro e più usati sono Jframe, Jdialog e Japplet e il quarto è Jwindow. Successivamente abbiamo i componenti intermedi, il cui compito è facilitare il posizionamento dei componenti atomici che poi vedremo. Alcuni esempi sono Jpanel e Jtubbed Pane, nel caso del Jpanel che è anche il componente più diffuso è invisibile. Infine a livello più basso troviamo i componenti atomici, eccoli qui che derivano tutti dalla classe Jcomponent. Alcuni esempi sono Jbutton e Jtextfield, ma qui ne vedete altri. Alcuni presentano informazioni all'utente come il Jlabel, mentre altri ricevono un input dall'utente come il Jbutton. E questi componenti non contengono altri componenti. Ecco l'organizzazione dei componenti in Swing. Qui possiamo vedere un Jframe, un componente principale con all'interno un Content Pane. Infatti in Swing ogni contenitore principale contiene un contenitore intermedio, dato che non possiamo aggiungere componenti direttamente al contenitore principale. Fa eccezione per la barra del menu che viene inserita all'esterno del Content Pane. Per questo primo video è tutto, dal prossimo episodio inizieremo a vedere come creare le nostre finestre.